In troppa, con colmette del Campo Reale, prendiamo il centro del Campo Reale, un caduto particolare da tutti i campi al venti, il Campo Reale, di Santa Maglionica, di Francesca Eppellina, di Rocconero, di Pabba Lupa, di Porto Reale. Questa è la storia, non credo, non cazzo. Prima giro per finisco. Oggi non è senza nada più in dettaglio. 39 secondi! 39 secondi, battito! Io non si migliorerò, si prenderò i nostri tempi! 39 secondi, stimo in giro! È in giro, oi! Cattavoliva, 5850 per diviso, una penalità! Una penalità, non migliorerà più in suo tempo, sicuro! Paccato! Una penalità! E adesso è un uro! E' bravo! Vediamo che c'è il uro! CONHERNA! Non sono 360 secondi e 39 si è il viso ma uno per la vita! Un minuto! Un minuto! Un minuto, un minuto! Un minuto in giro per l'alto, un minuto in giro, un minuto in giro! Con una penalità! L'ostrazione avversa, facciamo nella categoria! Non metto la mia per la nonna! A voi ne ha sfertature! A voi ne ha sfertature! E io, posso fare unicite di montare! Ora voglio andare a vedere questa macchina, devi vedere che il motore monta. Ah vabbè ora c'è una, questa puoi staccare.